Dalla collaborazione con la Cracking Art nasce anche questo bel progetto con una finalità sociale. La Cracking Art ci ha donato queste rane che inizialmente dovevano essere utilizzate per un progetto sociale ma vista l'emergenza che purtroppo ci ha colpito in questi giorni abbiamo deciso di destinare tutto il ricavato della donazione che arriveranno per l'acquisto di queste rane agli ucraini che sono arrivate nella nostra città.